Musica Confagricoltura Foggia evidenza la situazione di estrema gravità in cui versano moltissime imprese agricole a seguito del maltempo e delle alluvioni di questi giorni. Agli allagamenti derivati dalle ripetute e copiose precipitazioni si aggiunge l'esondazione del torrente Cervaro, i canali di Carapelle, Ponte Rotto, San Giusta, San Paolo e Vulgano ed altri con interruzioni anche della viabilità e delle comunicazioni ferroviarie. Intere zone sono in emergenza e in maltempo ha provocato notevoli danni sia alle coltivazioni in campo sia alle strutture aziendali. Confagricoltura Capitanata è impegnata a monitorare i territori interessati e fenomeni cercando di quantificare i danni delle coltivazioni che tuttavia già da una prima analisi si annuncia sicuramente ingenti, chiedendo immediati sopralluoghi da parte delle istituzioni preposte per poter richiedere lo stato di calamità. Amato Pettitone, Protezione Civile Foggia, com'è la situazione dopo le ultime piogge? La situazione attuale è quasi di totale normalità perché la Statale 90, quella che porta a Napoli, è stata quasi tutta riaperta, l'ultimo tratto che manca dalla casa cantoniera verso Segezia dove si aspettano i mezzi dell'ANAS per rimettere a posto un po' la situazione stradale e gli ultimi letriti che l'acqua ha portato giù sulla strada. Per quanto riguarda le aziende agricole, fino a ieri con i vigi del fuoco si è provveduto a svuotare diverse cantine, diversi attivi di diverse stalle, diversi locali sotterrati, ma soprattutto anche a Pianoterra dove l'acqua purtroppo ha invaso tutto. Anche aziende agricole hanno avuto diversi danni economici. La situazione diciamo che adesso è apparentemente tranquilla, anche se nelle prossime ore abbiamo ancora allerta meteo perché le previsioni prevedono ancora acqua, però speriamo che sia un'acqua un po' più tranquilla. Ma perché ogni volta che arriva una pioggia un po' più abbondante del solito succede questo da noi? Ma secondo il mio modesto punto di vista è soprattutto sul malutilizzo dei canali d'acqua ma soprattutto di quelle che erano le vecchie cunette che percorriano le varie statali. Parlo di malutilizzo perché da una parte c'è una relativa manutenzione, una manutenzione non sufficiente a ripulire questi corsi d'acqua e quindi soprattutto a riportare anche quelli che sono i livelli naturali di profondità e di larghezza delle alveoli dei fiumi perché è chiaro che l'acqua ha bisogno del suo spazio per poter defluire in maniera corretta. Per quanto riguarda invece le cunette ci sono delle zone proprio sul Via Napoli dove sono completamente sparite o perché sono state cementate dagli attraversamenti pedonali o perché sono piene di terra per cui non si vede più neanche più il segno. Cattivo utilizzo anche da parte di noi cittadini, di noi utilizzatori perché nei momenti di tranquillità dimentichiamo questi momenti di allerte, questi momenti di emergenza e quindi utilizziamo questi canali come praticamente delle vere e proprie discariche. Infatti poi si vedono che l'acqua arriva a un certo punto e trova dei tappi fatti appunto di immondizia anche di scarti dell'agricoltura che vengono buttati in questi canali. Energas, Manfredonia, c'è un fronte, Manfredoniavano favorevole al deposito costiero. I responsabili di Energas, l'azienda napolitana che ha progettato la realizzazione di un deposito costiero di GPL nell'area industriale di 49 di Manfredonia, sita in località Santo Spiriticchio, hanno incontrato alcune realtà socio-economiche di Manfredonia per uno scambio di notizie chiarimenti inerenti all'impianto in parola. Tra le altre realtà cittadine incontrate quelle del circolo Nautrius, Lega Ambiente della cooperativa Servizi Portuali Orsini e dell'impresa Cool Portuale Muscatiello. Nel corso degli incontri avvenuti presso la sede di Lega Ambiente in Autrius sono stati affrontati vari aspetti tecnici ed organizzativi dell'impianto GPL. Un confronto serrato a tutto tondo, supportato da una completa e dettagliata documentazione, peraltro già nota per essere stata pubblicata sui vari siti istituzionali e privati, che ha messo in evidenza le caratteristiche di un impianto che ha ricevuto, previ e lunghe, accurate e minuziosi analisi, molte autorizzazioni previste dalla legislazione nazionale ed europea. Dalla documentazione ufficiale è emersa la completa regolarità delle indicazioni del sito, ove drova a sorgere l'impianto contestando, pertanto, il tentativo del Comune di Manfredonia e il tardivo provvedimento di cambiamento d'uso dei terreni interessati al progetto GPL, così come è emersa la scoporosa applicazione delle più avanzate tecnologie in fatto di costruzione di sicurezza depositi interrati di GPL, un gas che lo stesso ordinamento della regione Puglia classifica non inquinante. Dal parere del Ministero dell'Ambiente, anche inoltre, ci sono una serie di prescrizioni che vanno dal piano di monitoraggio ambientale alle misure di mitigazione e compensazione previste dalla Direttiva Abita-Tuccelli della Deternatura 2000 per le aree del SIC. Un dialogo chiaro ed soriente dal progetto che giustifica una ragionata adesione libera al campo di lazioni scenari immaginari sul frutto di illogiche e insensate considerazioni. Il deposito costiero Energas è dunque da considerare come una risorsa per il territorio in proiezioni futura, un volano per una decisa ripresa economica. L'impegno di Energas non si fermerà al deposito GPL e che da solo potrà attivare varie attività particolari, ma potrà estendersi ad altri settori. Non si comprende da parte dei dirigenti Energas l'avversione a questo progetto basato su considerazioni del tutto irrazionali, priva di una qualsiasi fondata dimostrazione mirata ad ostacolare a cui a Manfredonia uno sviluppo che è consentito e sostenuto in tantissime realtà italiane. E intanto per giovedì 22 ottobre è prevista una nuova manifestazione cittadina, no Energas, infatti il 22 ottobre presso il Ministero del Sviluppo Economico a Roma si svolgerà la conferenza di servizi, un tavolo da non male assortito dove comune e regione si giocheranno le loro carte contro l'Energas e contro il ministro Guidi. Lo sblocchettario ha chiuso le porte e ha trasformato le istituzioni in una bisca clandestina ma la partita non può andare in silenzio come vorrebbe la posta in gioco. La mattina del 22, cioè domani, ci sarà ancora una protesta. Studenti, precari, lavoratori disoccupati e pensionati daranno vita ad una grande mobilitazione in piazza. Sarà l'occasione qui a Manfredonia per ribadire le richieste della città per evidenziare la necessità di modelli di sviluppo coerenti con la potenzialità del territorio e la sua storia per restituire dignità ad una popolazione da troppo tempo subalterna e soffocata. Il corteo avrà inizio alle 9.30 in Piazzale Ferri. Precisazioni sugli impianti termici. L'assessorato del territorio e ambiente di Manfredonia comunica a tutti gli utenti possessori di un impianto termico o qualsiasi titolo che qualora nell'anno 2015 abbiano già effettuato operazioni di controllo, manutenzione ed efficienza energetica e o abbiano sostituito la caldaio e effettuato la prima accensione della caldaia di un nuovo impianto e siano in possesso di tutta la documentazione rilasciata dal manutentore, cioè ribletto di impianto, di climatizzazione e dichiarazione di controlli che non dovranno ripetere le operazioni di controllo e manutenzione ma recarsi presso l'ufficio verifiche impianti termici sito al Palazzo della Sorgente e consegnare la ricevuta del versamento di contributo biennale pari a 16 euro. Si precisa che non saranno accettati certificati rilasciati da manutentori non in possesso dei requisiti di legge innanzi richiamati. Si invita perciò l'utente a verificare che il manutentore scelto sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Manfredonia dedica a Cristanziano Serricchio l'auditorium dei Celestini. L'auditorium di Palazzo dei Celestini sarà intitolato Cristanziano Serricchio. L'ha deciso il Consiglio Comunale di Manfredonia per ricordare una delle figure più fulgide della nostra città. Docente, preside, poeta, romanziere, drammaturgo, saggista, storico, archeologo, ispettore, onorario dei monumenti e scavi di Sipunto e tanto altro. Serricchio nella sua lunga e inattesa attività culturale è stato l'incarnazione di un modus operanti per far spavento per quanto spaziato in lungo e largo nel mondo del sapere. L'evento, patrocinato dal Comune di Manfredonia, avrà luogo sabato prossimo 24 ottobre. Per l'occasione saranno presentati due volumi tutte le poesie di Cristanziano Serricchio il mattino alle ore 11 mentre alle ore 17 la cerimonia di intitolazione. Grazie a tutti.